nelle propagine meridionale del segmento multima a difendere una tratta lungo la serie di correnti warp che collegano le principali rotte commerciali che vanno dal regno di ultramar fino al segmento un solare sacra terra giace il settore rotano rota la sua capitale pianeta da 60 milioni di anime 10 volte tanti abitanti governa su quello che non è né il più importante né il più corrotto dei settori reclamati del milione di mondi che devono la loro fedeltà al dio imperatore di sacra terra ma questo non vuol dire che non sia costantemente assediato da eretici xeno e incursioni delle creature del warp più volte nel corso dei millenni un gruppo di eroi è dovuto sorgere per sconfiggere i nemici dell'umanità e difendere il settore rotano alla corruzione che erode qualunque cosa nella tetra oscurità del 41esimo millennio questa storia non parla di nessuno di essi signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e questa settimana riprendiamo tutto il discorso che abbiamo fatto negli ultimi mesi su la fazione dei giocatori pg che ruotano attorno al gruppo dei personaggi giocanti e vediamo di fare un esempio pratico di tutto quello di cui abbiamo parlato la fazione di cui parleremo oggi è qualcosa che è stato effettivamente utilizzato in gioco questi sono una parte del gruppo dei personaggi che ha accompagnato i personaggi giocanti di una campagna che io sto attualmente ancora giocando e che vede gli eroi impegnati a difendere il settore rotano ea capire quali sono i loschi piani dei nemici dell'umanità nel nome della sua santissima inquisizione con risultati abbastanza alterni bisogna ammetterlo per chi non l'avesse riconosciuta questa campagna è nell'universo di warhammer 40.000 e nella fatta specie stiamo usando il regolamento di dark eresi la versione della fantasy flight non è qualcosa che vi serve per capire questo video ma nel caso ci fosse qualcuno curioso so che ci sono alcuni di voi che giocano a campagne in questa ambientazione quindi questo è quello che stiamo usando noi quello su cui invece andremo a concentrarsi sono gli elementi di questa fazione e il loro uso all'interno della campagna e cominciamo da quello più importante che dà il nome alla fazione stessa il proud mary è un incrociatore di classe dictator riconvertito per l'uso mercantile lunga poco più di 5 chilometri con una stazza di poco meno di 30 milioni di tonnellate e un complemento di equipaggio di circa 100 mila persone per gli standard dell'ambientazione di warhammer 40.000 rappresentano nave di medie dimensioni sufficientemente capace di difendersi da sola la maggior parte delle minacce che potrebbe incontrare è abbastanza agile e veloce da scappare da qualunque cosa non riesca a combattere per quelli di voi che si stanno domandando come possa una roba che grosso modo le stesse dimensioni della città di novara essere considerata agile e veloce benvenuti in warhammer 40.000 il proud è la base dei giocatori tramite cui si spostano da un pianeta all'altro per compiere loro varie quest come agenti segreti nel nome dell'inquisizione mantenendo la copertura di essere dei semplici membri dell'equipaggio di un mercantile corsaro questa è quella che in un precedente video abbiamo definito la casa dei giocatori ve lo lascio linkato qua in alto nel caso doveste andarlo a recuperare stiamo parlando appunto di cose come questo tra l'altro anche in quel video l'esempio era proprio un'astronave per essere sicuro che il party si affestionasse a questa nave che non diventasse quindi semplicemente un taxi che li spostasse da un pianeta all'altro nel corso della campagna ho inserito varie quest in cui i giocatori dovevano difendere la nave da minacce e potevano recuperare componenti per potenziarla modificarla i giocatori al suo interno hanno inserito tutta una serie di strutture che sono utili a loro per potenziare i loro personaggi costruire nuovi oggetti e ovviamente è stata popolata di personaggi interessanti a cui i giocatori potessero affezionarsi la nave di per sé è stata recuperata dai giocatori stessi in una delle prime quest all'interno della campagna che l'hanno dovuta recuperare da un deritto spaziale e poi hanno dovuto gestire una situazione politica per ottenere un capitano e anche vari altri png per equipaggiarla e quindi già questo gli ha dato un senso di familiarità col veicolo che non è semplicemente una nave che hanno trovato hanno dovuto guadagnarsela e hanno dovuto guadagnarsi anche i personaggi al suo interno questi personaggi ovviamente conferiscono vari bonus meccanici danno delle regole speciali alla nave ma principalmente sono i volti attraverso cui la nave il suo equipaggio si esprimono al gruppo di gioco con 100.000 persone a bordo è ovvio che citare anche solo tutti i png con nome con cui i giocatori hanno interagito nell'arco di anni di campagna renderebbe questo video non solo estremamente lungo ma andrebbe al di là degli scopi per cui serve vediamo però di fare alcuni esempi presi da questa campagna per darvi la possibilità di vedere in pratica come gestirli diciamo che voi state progettando la vostra campagna con la vostra fazione dei giocatori e volete usare lo schema che abbiamo illustrato nel video la settimana scorsa ve lo lascio qua in alto se dovete andarlo a recuperare ecco con seguaci alleati e gregari vediamo un po' di personaggi che hanno questi ruoli che sono all'interno del proud in questa campagna probabilmente il più importante tra gli alleati del party a bordo della nave e sir gibedia della casata di clearwater lord capitano e ufficiale comandante della nave stessa capitano clearwater discende da un'antica linea ereditaria di mercanti corsari senza scendere troppo nei dettagli di ambientazione immaginatevi qualcosa che sta a metà tra un consorzio industriale e una famiglia nobile settecentesca e l'ufficiale comandante nella nave ovviamente e in pratica è il proprietario vero e proprio della nave e quindi anche della casa dei giocatori non è stato mai chiarito esattamente all'interno della quest ma clearwater nonostante il suo enorme potere personale è in qualche modo legato a un altro png l'inquisitore ardias che è il mentore del gruppo dei giocatori di conseguenza non è qualcuno che lavora per i giocatori ma è qualcuno che è un collega dei giocatori non ne hanno quindi un controllo diretto che ruote comunque è molto disponibile ad aiutarli non solo tramite il letteralmente sterminato patrimonio della sua famiglia ma clearwater è anche un uomo molto interessato alla politica del settore rotano quindi più volte è stato in grado di dirgli quali siano le manovre migliori per ottenere i loro risultati a differenza però dei personaggi clearwater ha come suo principale interesse personale il patrimonio stesso nella fattispecie l'aumento e l'acquisizione di tutto quello che lo potrebbe rendere ancora più inimmaginatamente ricco di quello che è di conseguenza i personaggi ogni volta che hanno a che fare con lui devono ricordarsi che se vogliono il suo aiuto in qualche modo devono convincerlo che ci sia qualcosa da guadagnare per lui e essendo come vi ha detto un personaggio politico è un uomo particolarmente scaltro per i giocatori non è così immediato poterlo raggirare e c'è sempre il fatto che i giocatori non possono contrariarlo perché sulla nave dove loro vivono dal primo degli ufficiali della plancia all'ultimo dei mozzi tutti lì dentro dipendono economicamente da capitano clearwater quindi contrariarlo potrebbe significare trovarsi molto rapidamente alla parte sbagliata di un portello a galleggiare nel vuoto devono fare molta attenzione quando trattano col capitano lasciare però l'intero gruppo dei personaggi giocanti in balia di un singolo png che potrebbe da un momento all'altro scatenare una folla inferocita contro il luoro e far terminare la campagna non è il caso quindi a bordo della nave ci sono anche molti png che sono più fedeli al party di quello che lo sono al resto dell'equipaggio della nave e che quindi vanno a formare i gregari del gruppo dei personaggi giocanti questi sono rappresentati principalmente dai valorosi uomini del 111esimo delle forze difesa planetarie rotane i guerrieri mortan il 111esimo è un'unità militare si capisce al nome che il party è riuscito a procurarsi dopo che ha stretto accordi con il governatore del pianeta da cui hanno origine e che adesso agiscono in maniera abbastanza informale come mercenari alle dipendenze del party il 111esimo in realtà è un'unità di principalmente panteria leggera più qualche veicolo di supporto di circa una decina di migliaia di uomini e ovviamente andare a caratterizzarli uno a uno sarebbe stata un'ompresa da una parte impossibile dall'altra inutile perché i giocatori non avranno a che fare con ognuno di loro singolarmente questo li rende un ottimo esempio dei seguaci del gruppo di gioco renderli dei banali soldati senza nome senza volto non sarebbe stato interessante quindi ho deciso di dargli una caratterizzazione in realtà legata al pianeta dove hanno origine senza perderci in troppi dettagli alla quest il reggimento 111esimo rotano e reclutato tra le persone che vivono nei bassi fondi della capitale sono persone dalla moralità dubbia per molti di loro il servizio militare era l'unica alternativa alla galera quindi questo rende l'intero reggimento abbastanza ruvido sui bordi mettiamola così sono sicuramente molto valorosi in combattimento anzi delle volte dimostra una efficienza abbastanza spietata ma non sono particolarmente disciplinati e hanno la tendenza a prendere iniziativa se non vengono guidati in maniera corretta questo causa anche dei possibili contrasti con i personaggi stessi e rende appunto il reggimento non solo specifico e caratterizzato ma anche interessante da un punto di vista di storia il fatto poi che vengano da un mondo separato rispetto a tutti gli altri membri dell'equipaggio della nave ha dato la possibilità di inserire anche conflitti interni tra i vari gruppi all'interno della fazione dei png perché i soldati rotani hanno usi e costumi del tutto diversi a quelli del resto dell'equipaggio e tra l'altro il contrasto anche dato al fatto che l'equipaggio e i soldati rispondono a due catene di comando totalmente separate e quindi non sono effettivamente relazionati tra i loro dai ranghi del cento undicesimo sono apparsi un bel po' dei gregari dal party e probabilmente il più importante quello a cui i giocatori sono più affezionati è l'ufficiale comandante il colonnello Kravak. Kravak è la personificazione stessa degli uomini del cento undicesimo è nato ed è cresciuto nei bassi fondi della grande città e vede l'occasione di lavorare per i giocatori come un modo per andarsene dal suo pianeta e magari acquisire anche un minimo di ricchezza e potere personale ma è anche una persona fondamentalmente corretta quindi lui vuole arricchirsi e saccheggiare ma vuole che anche i suoi uomini abbiano la possibilità di arricchirsi e saccheggiare e non vede di buon occhio qualsiasi cosa possa effettivamente mettere a rischio la sicurezza sua e degli altri soldati se non c'è uno scopo ben preciso dietro non è sicuramente qualcuno che si tira indietro al combattimento ma se i personaggi cercano di propogli qualcosa che palesemente è suicida o priva di scopo è il primo a cercare di evitare la situazione ad accompagnare Kravak ci sono gli altri due ufficiali che compongono il suo gruppo di comando e che sono stati caratterizzati prendendo i due elementi fondamentali che contraddistinguono i png del 111 come gruppo il maggiore denti e l'ufficiale di logistica del 111 e non vede alcuna differenza tra il suo attuale incarico e il suo precedente mestiere di ricettatore nei bassi fondi è estremamente attaccato al bottino e ha più volte dimostrato in quest la capacità di riuscire a procurarsi cose che tecnicamente non dovrebbero neanche esistere quindi torna estremamente utile ai giocatori inutile dire che anche uno dei png più amati da capitan clearwater l'altro lato della medaglia è rappresentato dal maggiore lama che deve il suo soprannome al fatto che ogni volta che appare in scena è descritto giocare con un coltello a farfalla da cui non si si farà mai lui incarna gli aspetti più violenti e brutali della banda dei mercenari e decisamente il tipo di uomo che prima spara poi spara ancora e poi si dimentica di fare domande e non sta molto a pensare alle conseguenze delle sue azioni ha anche causato problemi per questo i personaggi nel corso di alcune sessioni il fatto che si chiamino denti e lama e che vengano chiamati anche i loro uomini per soprannome è una semplificazione che aiuta a distinguerli per i giocatori denti e se un imbonitore sorride spesso lama gioca con un coltello a farfalla questi sono dei semplici trucchi per rendere più facile la vita al party questo comunque dovrebbe darvi grosso modo una panoramica completa di tutti quelli che sono i png a bordo del proud mary diciamo che grosso modo questo dovrebbe fornirvi un esempio concreto di tutto quello che abbiamo parlato finora da la fazione in generale la casa e poi i vari png legati al party ovviamente come ho detto ci sono molti più personaggi di questi nella fazione ma prima di chiudere vorrei citarne uno in particolare all'inizio della quest tra i personaggi che hanno stati presentati c'era il signor maverick il cag del proud mary il capo gruppo aviatori l'ufficiale che comangia le squadriglie dei caccia della nave il party aveva avuto molte possibilità di interagire con lui tra l'altro era quello che era andato a salvarli alla fine di una missione proprio atterrando caricandoli e portandoli via da un pianeta e quindi il party si era potuto affezionare al personaggio che era anche caratterizzato a uno stile molto baldanzoso che ai giocatori piaceva purtroppo per i giocatori più avanti in una quest i loro antagonisti hanno abbordato la nave per cercare di sabotarlo i giocatori hanno decisamente frainteso alcune situazioni quindi i personaggi giocanti hanno agito veramente male nella difesa della nave e questo è il risultato col fatto che la nave sia stata sabotata e i loro nemici siano riusciti a scappare nella fuga però hanno causato anche dei danni collaterali tra cui hanno ucciso il povero signor maverick che si trova nell'hangar quando gli antagonisti sono arrivati nell'hangar per rubare una navetta e scappare ovviamente questo non solo ha fatto perdere alla nave i bonus meccanici del cag ma ha dato anche ai giocatori un ottimo motivo da una parte per avercela a morte con gli antagonisti perché adesso non era più una questione politica era una questione personale quelli avevano ucciso un loro amico e gli hanno anche ricordato che effettivamente se non si impegnano a fare quello che fanno potrebbero esserci le conseguenze che vanno al di là di quelle per i loro singoli personaggi questo è un esempio pratico di come voi come master potete usare i personaggi della fazione dei giocatori anche al di là dei semplici bonus che danno alle semplici interazioni che hanno con i giocatori ma possono servire anche per motivare il party o tra l'altro dagli una motivazione più personale per andare a combattere i loro avversari e rimanendo a tema di avversari saranno loro l'argomento del prossimo video dato che ormai è tradizione che a natale si parli sempre qualcosa di sgradevole settimana prossima andremo a vedere come organizzare lo specchio oscuro di quello di cui abbiamo parlato finora cioè la fazione degli antagonisti fino ad allora però come sempre la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti se voi avete creato delle fazioni che aiutino i vostri giocatori o se magari i vostri giocatori se la sono creata da soli se magari volete condividere qualcosa in modo da dare idee agli altri che possano rubarvele per usare nelle vostre quest come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che è avuto a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di discord al gruppo telegram dove metto io il link ai video manualmente dove si raduna anche il resto della community tra cui ci sono alcuni dei giocatori di questa campagna quindi immagino staranno lamentando se adesso che vedono questo video come sempre io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video